ciao buongiorno vorrei fare questo piccolo video con ciuffo ribelle ed essendomi svegliata da poco c'è anche un livido dovuto agli sportelli della cucina che vi saluta tantissimo vorrei fare questo video perché ve lo dico così come ce l'ho in testa io ho questo canale su youtube e questo canale per me rappresenta un hobby cioè quello che io faccio nel tempo libero quello che io faccio nel tempo libero per me ha senso se non comporta stress se non ci devo lavorare troppo sopra e se non mi crea come conseguenza uno stress uguale o a volte addirittura maggiore allo stress che io subisco già come tutte le persone normali sul lavoro non ho mai ricevuto soldi per fare youtube non c'ho nessun capo che mi comanda e che mi ficca in testa mi fa ripetere a pappagallo e a pappardella quello che vuole per prendere in giro fregare rubare i soldi ai consumatori tutto quello che dico viene direttamente da dentro la mia testa cioè io su youtube nel mio canale sono il capo di me stessa e vi parlo di quello che mi pare non di quello che pare a voi non di quello che pare alle ditte ma solo esclusivamente di quello che mi pare allora però io mi sono spinta nel corso di questi ultimi 8 9 quasi 10 anni io mi sono spinta naturalmente molto molto avanti con le mie ricerche sugli ingredienti cosmetici sugli inci sulle leggi eccetera eccetera tutto quello che io però ho assimilato e ho imparato non è che necessariamente automaticamente lo vengo a dire a voi perché perché quando vedo che in giro nessuno parla di un tema e nessuno parla di un argomento dentro di me penso perché devo essere io a dire questa cosa e poi se la dico mi faccio notare e la gente mi viene a rompere le scatole mi viene a fare le domande e nessuno nessuno mi risarcisce per il tempo sprecato a rispondere le domande nessuno mi risarcisce o mi compensa mi dà un compenso per eventualmente il pubblico che non riesce ad accettare quello di cui io parlo come infatti spesso succede e allora molto spesso io quello che scopro quello che so me lo tengo per me no che mi frega capite e non è necessariamente cattiveria ma è semplicemente il fatto che in una giornata ci sono 24 ore queste 24 ore sono tempo che trascorre nel conto alla rovescia che fa avvicinare il mio corpo e la mia persona al giorno della morte no allora io queste 24 ore che trascorro ogni giorno voglio trascorrerle il più possibile di buon umore e allora non voglio andarmi a mettere io di mia spontanea volontà come una cretina in mezzo ai guai capite il discorso che sto facendo va bene allora questa era la premessa lo so che non siete abituate e non siete abituati alla gente che vi parla chiaro vi dice le cose come stanno perché neanche nelle famiglie i genitori dicono le cose come stanno i genitori tentano sempre di buggerare i figli dicendogli una cosa di comodo o un aggiustamento della realtà è raro che dentro una famiglia ai figli gli si dicano le cose realmente come stanno e generalmente quando capita si tratta di genitori un po alternativi un po selvaggi un po con un passato controverso quindi mi rendo conto che non siete abituati ad avere davanti qualcuno che vi dice le cose realmente come stanno e quindi vi vivete il modo in cui io vi parlo come grande scandalo ma guarda questa come si permette però questi sono fatti vostri e ve li dovete gestire per fatti vostri io non ci posso fare niente questa era la premessa dicevo ciò di cui io realmente vorrei parlarvi in questo video che è completamente estemporaneo e spesso nei video sento ragazze che hanno comprato un prodotto sul prodotto hanno letto senza profumazione e poi invece sono rimaste molto deluse molto incattivite molto arrabbiate con la ditta e con il prodotto perché nel prodotto c'era un odore che spesso l'odore della combinazione di materie prime allora il problema è questo in realtà non dovreste deludervi dovreste soltanto istruirvi dovreste soltanto capire una semplicissima cosa e poi capire anche quali sono i limiti della legislazione della comunità europea che riguarda i cosmetici e quali sono i limiti per il momento concernenti le profumazioni dei prodotti allora dunque noi nella comunità europea abbiamo tante nazioni per quanto riguarda lo scrivere sul flacone di un prodotto sulla confezione di un prodotto senza profumazione al momento più o meno ogni nazione fa in un modo che è il modo della sua nazione io in italia non so esattamente come funzioni ma mi rendo conto da quello che dicono le ragazze l'esempio che vi stavo facendo prima ossia tante ragazze si lamentano e si mostrano grandemente deluse perché hanno comprato un prodotto sul prodotto c'era scritto senza profumazione e poi però loro per tutto il tempo hanno avuto nel naso un odore generalmente spiacevole perché è un odore che è la risultante della combinazione degli ingredienti che ci sono dentro a sto prodotto e allora io ascoltando questa cosa ripetutamente dentro di me penso che evidentemente ci deve essere un problema probabilmente di traduzione di organizzazione sui flaconi dei prodotti cosmetici in italia però in realtà funziona così il mondo dei cosmetici si divide in cosmetici che possiamo dire in inglese fragrance free scritto fragrance free e invece i cosmetici che possiamo chiamare unscented scritto unscented allora i cosmetici ascoltate bene se non capite riavvolgete il video e riascoltatevelo un'altra volta i cosmetici che si chiamano fragrance free sono i cosmetici a cui non sono stati aggiunti ciò che si chiamano masking scents masking scents sono ingredienti specifici fatti apposta per cancellare l'odore derivante dal mix di ingredienti cioè l'odore naturale che avrebbe un cosmetico allora quando voi trovate in un negozio un cosmetico su cui c'è scritto fragrance free significa che dentro questo cosmetico non ci sono ingredienti aggiuntivi che hanno cancellato ogni traccia di odore quindi significa che dentro questo cosmetico voi leggete fragrance free e però quando aprite il cosmetico c'è un odore c'è un odore che non è una profumazione cioè non profuma di campi fioriti oppure di profumo sensuale ma profuma di mix di ingredienti cosmetici va bene eventualmente ci possono essere due odori uno accanto all'altro il mix di ingredienti cosmetici e poi un mix di oli essenziali e questi due fanno botte fra di loro e voi con il vostro naso percepite tutte e due e la percezione è spiacevole questo succede spesso nei cosmetici che sono molto interamente naturali e molto integralisti sull'essere interamente naturali ma generalmente quando avete un cosmetico fragrance free significa che questo cosmetico sicuramente avrà un odore derivante dal mix di ingredienti di cui è composta la formulazione ora il problema qual è in italia che se uno vuole tradurre fragrance free o scrive privo di fragranza oppure scrive come scrivono tanti senza profumazione ma questa è una cattiva traduzione cioè una traduzione che non è stata fatta da impiegati pagati apposta perché qualificati e capaci realmente di tradurre in modo sensato da una lingua a un'altra lingua ma magari a tradurre le cose c'è la figlia del proprietario la sorella la cognata il nipote oppure il proprietario stesso che è andato in vacanza in due tre terre esotiche e ha parlato con il venditore di foulard dicendogli three dollars wait e allora pensa che lui sa maneggiare e sa destreggiarsi con la lingua inglese no ma in realtà fragrance free dovrebbe essere tradotto senza fragranza oppure anche con una espressione magari più bella più italiana che non spetta a me coniare perché non sono io quell'impiegato qualificato che dovrebbe lavorare nelle ditte no poi invece passiamo alla casistica numero due dunque la casistica numero uno come ho appena finito di dire è composta da quei prodotti che si dicono fragrance free fragrance free significa voi aprite il prodotto hanno usate odore di ingredienti cosmetici mixati insieme casistica numero uno bene punto a capo casistica numero due ossia tutti i prodotti che si dicono unscented 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 significa che dentro il prodotto sono stati usati ingredienti specifici che si chiamano masking scents scritto masking scents e questi ingredienti specifici servono a cancellare ogni odore allora quando voi avete un cosmetico che sul flacone ha scritto unscented unscented significa che voi con fiducia potete aspettarvi che quando aprirete quel cosmetico andrete lì a sniffare col naso non sentirete alcun odore né profumazione né odore va bene però se uno è un integralista del naturale cioè se uno vuole a tutti i costi il chilometro zero il contadino che a piedi viene fino a casa tua a portarti le mele il prodotto cosmetico che è stato fatto dietro casa tua anche se il proprietario gli ingredienti le ha comprate le materie prime le ha comprate su internet e ogni materia prima viene da un continente diverso però a te ti piace intensamente credere nel chilometro zero cioè se sei una ragazza integralista di quel tipo cioè una persona con il desiderio molto molto sviluppato di illudersi su qualcosa e quindi una che va dritta per la propria strada e difficilmente si ferma a riflettere sulle cose ecco allora se vuoi fare un favore a te stessa per una volta capire una cosa nel modo giusto allora quando compri un prodotto unscented il prodotto unscented che non odora di niente è un prodotto che è più modificato e più elaborato di un prodotto che invece è fragrance free perché il prodotto che è fragrance free non contiene masking sense non contiene ingredienti fatti apposta per cancellare l'odore naturale delle materie prime allora se tu sei una vera integralista no non devi comprare la pomata che è la copia della pomata di Martina Gebhardt e che però invece di contenere materie prime da cui si sa con esattezza la provenienza come per quanto riguarda le pomatozze di Martina Gebhardt quelle materie prime con cui è fatta la pomatozza copia alternativa 100% made in Italy contiene però materie prime che vengono dall'India dalla Cina dal Pakistan no e sono materie prime comprate in bulk ossia in grandi quantità su internet da grossissi così come capita allora non ti compri quei prodotti che sono la copia dei prodotti di Martina Gebhardt anche se sono made in Italy perché non sono made in Italy per davvero cioè la manifattura è made in Italy ma le materie prime vengono comunque da tutto il resto del mondo quindi ragiona un attimo no impiega un paio di neuroni per un'effettiva frizione che ti mette in moto il cervello e nello stesso modo in cui smetti di comprare quei prodotti magari ti compri la pomatozza di Martina Gebhardt che sicuramente costa magari un euro di più o due euro di più però ha la sicurezza della provenienza delle materie prime perché provengono tutte da coltivazioni che sono di proprietà di questa signora che si chiama signora Gebhardt che esiste veramente una signora di una sessantina e passa l'anni così come non ti compri dunque così come smetti di comprare le cose che ti vengono pubblicizzate come interamente italiane però in realtà contengono materie prime che provengono da tutto il mondo nello stesso modo capisci anche che un prodotto cosmetico che non odora di niente c'è il trucco contiene un trucco e il trucco è che dentro ci sono dei masking scents ossia degli ingredienti riguardanti la profumazione e che sono ingredienti che servono a cancellare l'odore naturale del prodotto e del mix di ingredienti che lo compone per dare a te l'illusione che questo prodotto sia più puro e più salutare e più sano perché senza profumazione benissimo questo era il video ora patti chiari quando io dico patti chiari dico solo patti chiari perché ho la consapevolezza di star parlando con gente con cui non ci si conosce e non si ha nessuna relazione nel senso io e voi non ci conosciamo e intendiamo continuare a vivere ognuno le nostre vite senza necessariamente imparentarci quindi se io vi dicessi la frase patti chiari amicizia lunga direi una frase che in questo caso non c'è senso perché non c'è il desiderio di impegnarmi in un'amicizia o in un qualche legame con persone che io in realtà non conosco ed è anche giusto che io non le conosca cioè se io sul mio canale c'ho un video che viene visto diciamo mille volte no? allora non è che io mi voglio imparentare o voglio avere un legame stretto con tutte e mille le persone che hanno fatto click sul video assolutamente no cioè dopo è scontato che si rimane sconosciuti che caso mai con qualcuna di queste mille persone o di questi mille click si palesa un contatto e quindi ci si scambiano convenevoli ci si scambiano buh forse speriamo informazioni ma non è che io mi voglio imparentare con ognuno di voi e neanche voi vi volete imparentare con me quindi la mia frase è solo e semplicemente patti chiari stop quindi patti chiari tutto quello che io avevo da dire l'ho detto in questo video quindi non devo aggiungere più niente da parte mia io quello che dovevo dire ve l'ho detto e ve l'ho detto per fare un esperimento perché mi trovavo qui seduta a bere il caffè caffè che in questo momento sta reggendo il telefono a questa tazza sul dorso di questa tazza si regge il telefono così e stavo bevendo il caffè e per l'ennesima volta stavo guardando un video e in questo video c'era la ragazza che diceva uh mamma mia come sono delusa perché ho comprato un prodotto che è senza profumazione ma poi dentro si sente tutto un odore che è un odore che non è neanche piacevole e allora quando tu senti questa cosa una, due, dieci volte tu sai qual è l'inghippo sai qual è il problema ovviamente ti viene la voglia di dirlo no? solo che ti devi trattenere perché sai che se lo dici ciò ti porterà problemi perché parlerai di una cosa di cui nessun altro ha parlato perlomeno fra le ragazze che così perdono tempo su youtube e quindi poi tutte le domande verranno fatte a te oppure la gente griderà oppure la gente non crederà a quello che dici e darà addosso a te oppure la gente sarà anche invidiosa perché tu hai detto quella cosa e lei invece no e un altro invece no cioè da questi exploit in cui uno dice delle cose che non sono nozioni molto frequentate e molto assodate e date per scontate possono venire solo guai e quindi una persona saggia cosa fa? sta zitta non dice niente io però in questo caso in questa bella mattinata di fine settimana ho appena scommesso con un simpaticone che non si vuole far vedere che io adesso faccio questo esperimento e da questo esperimento usciranno delle cose non vi dico chi ha scommesso cosa non ve lo dico perché non c'è bisogno che voi lo sappiate però sappiate semplicemente che io vi sto dando questa informazione su ciò che è realmente la profumazione dentro i prodotti e non perché c'ho voglia di darvela ma perché ho appena scommesso con un buon tempone che che mi sta guardando con uno sguardo che mi fa un po' sudare freddo ma anche caldo cioè mi fa un po' le ascelle umide e che altro vi volevo dire in questo video? no niente vi volevo dire che questo riguarda comunque in realtà anche i cibi se voi andate in Giappone e comprate cibi giapponesi noterete che i biscotti gli snack i dolcetti non c'hanno nessun odore e non c'hanno nessun odore perché sono stati tutti trattati con questi masking scents che hanno completamente eliminato qualunque odore al contrario però questo non significa che le merendine qui in Europa hanno un odore e quell'odore significa realmente l'odore del dolcetto l'odore naturale del dolcetto no anche la merendina che profuma intensamente di caramello di zucchero di buono di dolce che fa venire l'acquolina in bocca anche la merendina la girella il buondì che ne so i cibi qui in Europa vengono trattati con i masking scents ossia gli viene tolto l'odore naturale poi gli vengono aggiunti degli odori fatti apposta per come diceva una vicina di negozio dei miei genitori per fidelizzare il cliente c'è degli odori fatti apposta per fargli venire l'acquolina in bocca e per fargli credere che lui senza la girella non può vivere adesso sto dicendo girella per dire proprio un classico delle merendine ma potrei dire qualunque altro tipo di merendine le merendine no solo siccome l'Italia si è riempita di gente che non è italiana giustamente è giusto che sia così però a queste persone nessuno ha spiegato l'italiano come si deve e quindi queste persone se gli dici merendina io non sono così tanto sicura che capiscano che cosa significa merendina merendina significa snack comunque una cosa tipo bundi tipo girella ma com'è difficile spiegare le cose e quindi cosa manca manca una legislazione manca una legislazione riguardante informazioni precise per quanto riguarda le profumazioni aggiunte gli odori naturali e gli ingredienti riguardanti la cancellazione degli odori naturali in attesa che ciò cambi e in attesa di impiegati qualificati che si occupano che si occupino non tanto non solo di tradurre dall'inglese all'italiano ma anche di usare una terminologia o di piazzare sui flaconi dei cosmetici una terminologia che abbia un senso e che non sia inventata a casa al bagno sul gabinetto dal proprietario della ditta ma rispecchio una terminologia che poi viene usata da tutti in modo conforme per dare ai consumatori vocaboli su cui fare affidamento ecco in attesa che le cose inizino ad andare in questo modo a voglia di aspettare questo video finisce e io per cortesia vi pregherei in ginocchio siccome ovviamente è sabato mentre vi parlo di non appestarmi il fine settimana con attacchi di violenza oppure con che ne so con commenti che mi fanno capire tale e quale che il video non l'avete guardato l'avete guardato a pezzi l'avete guardato senza audio e come faccio io ad evitare che voi vi comportiate in questa maniera potrei semplicemente pubblicare il video lunedì invece di pubblicarlo durante il fine settimana no e poi lunedì non sono disponibile non ci sono e rispondo ai commenti tre giorni dopo cioè potrei fare così però siccome sono Valentina voi ci potete proprio scommettere al cento per cento e di nuovo ricevo un piate che io pubblicherò il video adesso cioè l'ho fatto sabato e siccome l'ho fatto con il telefono questo significa anche che lo posso anche direttamente pubblicare ok questo video video finisce qui tanti saluti buon fine settimana e ciao e io adesso mi vado a lavare le ascelle cosa devo fare ciao 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 ciao